Onorevole all'Asia, che cosa è successo questa notte in Piemonte? Ulteriori attacchi da personaggi noti alle forze dell'ordine, a degli automezzi di aziende che stanno lavorando per l'infrastruttura della TAV in Val di Susa. Attacchi che condanniamo fermamente e diamo piena solidarietà agli operai, alle aziende, alle forze dell'ordine e alle forze politiche locali che continuamente sono attaccate dal movimento Notav e chiediamo l'intervento immediato del Ministro dell'Interno e del Governo perché questo cessi totalmente. Sono attacchi in perfetto stile mafioso perché sono intimidazioni per fermare un'infrastruttura che è utile non solo al Piemonte ma al paese intero. Nei giorni scorsi infatti un imprenditore aveva alzato al bandiera bianca nei confronti di queste persone che continuavano a fare questi attacchi? Sì è evidente che ha tutti i diritti di tirare su le mani e arrendersi però non si deve fare in modo di permettere che questo avvenga perciò massima solidarietà e ci aspettiamo che il Governo faccia realmente quello che ha detto di dare aiuto alle aziende colpite perché non c'è la possibilità che questo continui. C'è la necessità di fermare la violenza, mantenere alta l'attenzione l'abbiamo sempre rivendicato ma non con atti violenti come sono avvenuti fino ad oggi.